Neymar, protezza assoluta, una giocata perfetta ed è il primo gol della gara e ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Sono due i gol per lui in questo torneo, calcio di posizione per l'Inter. E devono sfruttare assolutamente questa occasione, perché il primo tempo sta per finire. Chrisan Eriksen. Un gol in cui è venuto, è come di è venuto, che gol fantastico! E l'Internazionale riesce a segnare poco il pari. Un'esecuzione perfetta. Grazie. 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 Grazie.